Una dichiarazione di dissesto finanziario che risale al 2013, massa passiva quantificata in oltre 30 milioni di euro dall'organismo straordinario di liquidazione, nessun intervento sui fondi vincolati e nessun piano di risanamento al momento definito. I conti del Comune di Vibo Valencia restano in rosso e la preoccupazione che la situazione finanziaria possa ulteriormente aggravarsi agita i sogni del Partito Democratico che dai banchi dell'opposizione chiede conto sulle contromisure adottate. Nessuna, a parere dei consiglieri democrat, che ora agitano lo spettro di un ulteriore e ancora più grave dissesto che rischia di far precipitare l'ente in una bancarotta dalla quale sarebbe difficile riprendersi. Per il capogruppo del PD Giovanni Russo la colpa è di una maggioranza incapace di portare il Comune fuori dal pantano dei suoi guai finanziari, mentre i cittadini continuano a pagare tributi esosi pur in assenza di servizi adeguati. Una maggioranza impegnata in continui riposizionamenti, aggiunge, è pronta ad accapigliarsi per un posto in giunta. Ma a ben guardare tutto il consiglio, minoranza compresa, a dover fare i conti con cambi di casacca che denotano una continua instabilità. Lo stesso gruppo del PD ha perso nel giro di pochi giorni due consiglieri transitati nel gruppo misto. Da Sabatino Falduto, richiamato dalle sirene del consigliere regionale Vincenzo Pasqua, ora nell'orbita di AP, a Maria Fiorillo, uscita in dissenso con le scelte della compagine, il gruppo perde pezzi e passa dagli undici componenti di inizio consigliatura agli attuali sette. E l'emorragia potrebbe non finire qui. Stefano Mandarano per la CNews24